Fine delle speranze per Fulvio Filace, 25enne studente dell'Università Federico II di Napoli e tirocinante al CNR, rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto avvenuta lo scorso venerdì 23 giugno sulla tangenziale di Napoli. Aiuto esplosa in tangenziale, morto Fulvio Filace. Il giovane, purtroppo, non ce l'ha fatta, è deceduto nella notte nell'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato nel centro Grandi Ustionati. È la seconda vittima dell'esplosione dell'auto, realizzata nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi solari. Lunedì 26 giugno, sempre al Cardarelli, è morta Maria Vittoria Prati, 66enne prima ricercatrice del CNR, che era alla guida dell'auto. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione che ha distrutto l'auto e causato la morte della ricercatrice e del tirocinante. Sull'accaduto la procura di Napoli ha aperto un'indagine. Maria Vittoria Prati, la prima vittima. La 66enne Maria Vittoria Prati si è arresa, dopo quattro giorni di straziante agonia, alle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo, quando la macchina ad alimentazione ibrida, gasolio più energia da un pannello solare, è esplosa e le fiamme hanno avvolto il veicolo, Maria Vittoria non è riuscita a muoversi, rimanendo prigioniera del fuoco. L'hanno tirata fuori dall'abitacolo i soccorritori, all'ospedale Cardarelli, nel reparto Grandi Ustionati, hanno cercato di fare il possibile, ma per l'ingegnere, tra le menti più brillanti del CNR, non c'è stato scampo. Era sposata con uno stimato professore di ingegneria chimica della Federico II di Napoli, Fabio Murena. Anche lui chiede verità e giustizia. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.